le immondizie la merda il secco è incazzata nera quindi vabbè ci abbiamo qualcosa pieno e lo mettiamo fuori che non lo paga il cazzo dio parco che brutta sconfitta non 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 Ehm. 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 quel rotto in culo con lo scar figlio di puttana andiamo nelle case in fondo ma a sinistra quella è davanti al campo di calcio si com'è la situa? calda c'è gente? si tanta tanta io sono andata qua con il tetto rotto va a quella di sì se riesci sì un'è già l'albero che sta lottando eh un'è già lottato l'albero ahia ne ho uno sotto di me abbiamo provato a spare l'ho spreso ce l'ho speso l'hai fatto fuori? no piccolato ti tiro giù lurido mi ha sparato un colpo di revolver mi ha tolto come si è messo? meh io maleino dove stai con sto lento? sul mio petto sul mio petto eh eh rico io ero sotto eh vabbè lo vado a prendere dai sono mica un po' tanto eh questo stasanto tu ripeti un po' quello che hai detto beh tu smigli tu smigli dopo la sua sua distanza però da vicino umilia anche un po' un po' sto assalto se prendi col primo colpo da sinistra quando va dietro se lo sanno lo sparacca usa il trampolino vabbè ci provo in caso corri dallo scaracca in effetti avevi ragione anche te ma aspetta che se adesso hai fatto una prendita è da presa come ha fatto mi sa è da presa scar leggendaria vai vai giocatelo giocatelo però è bello se lo fai quando siamo in due non ti viene ne andiamo a andare no non tanto devi vendarti eh lo so ma che numeri non ho neanche luttato bene eccolo là dai che vi fa l'ultimo si va bene puoi sparare anche meno di un caricatore e porco dio se non entrano i colpi sai che se vai sul prova a sapere sul liberante si si lo so lo so 6 kill Enrico 42 rimasti ah lo sapevo che ancora uno doveva tornare via dalla città ma sta casa cosa io non l'ho mai vista lo sta casa ma se questa nessuno se la caga mai può avere una o due cassa di solito cioè una cassa c'è si è un po' rigogolata ottimo un colpi e scappa un'altra cassa non ho tempo per l'altra cassa scappa 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 no time no time rompì io io un altro stracca ce l'ha si è messo in frente in tanti corri saltella saltella dai 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 boom mi chiedevo correre non tanto di più dov'è come zona tipo di fianco a fatal field ok verso prigione o flush verso flush uh bella lunga allora si ok 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 è che non so dove andare devo riprovare eh che devo passare anche da grisi se posso dire non va bene portaci in top 10 dai almeno quindi quanto devo arrivare? 20 adesso indipende non si sta ammazzando nessuno quindi o tutti stanno correndo ho finito di becchi di scienco ok 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 sono sopra lì ci ci spugli no no si speriamo in quindici ci ci spugli però dieci ci smugli ci spugli non è vero che speriamo che ora c'è la frittura frittura è è è è casa? ah si uno scuro almeno una slurp ma speri che capi eh volevo provare la fortuna oh io non vedo nessuno come è possibile eh oggi ci spuglio come secondo amico c'hai un'arma silenziata andare su quel monte lì non sarebbe male hai tanti materiali? beh 350 120 90 ok ma su quel monte non si può andare nooo quanta dita perdi? poca tanto le bende oh mi ha costruito il mio lì all'ultimo bello il muro 19 signori signori che è una festa a giocare senza di ninja no oggi potrebbe andare bene eh oggi c'erano partite da registrare si può sempre caricare eh qua è sempre un punto di merda dove muoio sempre soprattutto chi passa sotto 15 signori e signori 15 no stai fermo stai fermo oh aspetta che mi metta un po' di la testa secondo me non c'è nessuno lì però ecco che vedo? oh ecco le mie questo è mio boom dio porco gli ho fatto malissimo si gli ho tolto tutto lo scudo e vita guarda che è sceso è scappato va bene va bene metti fanno pushare eccolo lassù si si aspetta vai 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 boom morto che pirla mica ma veramente il problema è che devo andare Enrico no secondo me l'ha usata per scendere io non voglio passare sotto eh questa va questa va veloce anche devo per forza muoio lo so già muoio solo altri 10 hai tempo è un minuto senti eh hai visto la loga però eh? no no non ho visto la loga è giro l'altra eh le razze che perdono eh no eh si però puoi costruire in cima alla montagna cioè l'aquatico non 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 le ti non guarda qua davanti che ci sono wait 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 guarda il loot guarda il loot orco dio quanta roba c'aveva quello che ho ucciso eh il cespuglio qua eh c'è il medikit che non è male eh devo eh anche i medici ok vai dall'altro no l'altro no colpi materiali no non serve 243 colpi eh peggio giro più un attimo peggio per la montagna dietro qua no aspetta devi essere no figlio di troia eh da sopra magari lo prendi è che devo andare a far poco vado anche lassù in cima all'altra collina eh adesso arri come devo andare devo scendere da qua per forza dove era quello ah è qua adesso oh che quickscope è uno spara patate no ok qua ho la vincola la perdo la sopra la sopra ho messo la crappola la crappola ma chi è che ce l'hai modificato tanto devono uscire da qua vai adesso ci non c'è raggi prendi non c'è raggi prendi non c'è raggi e d'acqua non c'è raggi una coppia manca cosa starà luttando ancora ancora affare affare erano la tesi dentro 1v1 1v1 fate le scale per stare più in alto si può dire che mi sto cagando addosso? ecco lo c'è puttana salva sta clip video faccia di merda 10 e 3 assist a 1v2 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 2v3 2v4 2v4 3v4 3v4 5v4 5v4 Grazie a tutti